Chi è Dana Saber, Grande Fratello Vip, Mello e la carriera da modella? Dana Saber è una concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, modella. E nota nel mondo della moda grazie alle collaborazioni instaurate con diversi e importanti brand. Nome e cognome, Dana Saber. Luogo di nascita, informazione non disponibile. Data di nascita. 23 marzo 1993. Età. 29 anni. Peso, non disponibile. Altezza, non disponibile. Professione, modella. Dana Saber è una modella, molto conosciuta nel mondo della moda per le collaborazioni con i più importanti brand del settore. Al grande pubblico, soprattutto a quello social, è conosciuta per diversi gossip che l'hanno vista come protagonista. In particolare è diventato virale un video, pubblicato nell'estate del 2022 da Europe 7, che la ritraeva mentre baciava Diane Mello. Dana Saber entra ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip durante la puntata del 19 dicembre. Il giorno seguente, durante una chiacchierata con Antonella Fiordelisi, le confida le sue prime impressioni sugli altri coinquilini della casa. Secondo Dana, le donne sarebbero più restie ad avvicinarsi a lei e a fare la sua conoscenza. Dana Saber si è presentata nella casa come una ex conoscenza di Antonino Spinalbese. A quanto pare, diversi anni prima, lui le avrebbe tagliato i capelli nel salone in cui lavorava a Milano e successivamente si sarebbero visti per un drink. Quella sera, proprio per proteggerle i capelli dal vento e dal freddo, Antonino le ha regalato una sciarpa. Che lei ha conservato per tutti questi anni. Antonino, davanti a questo racconto. È rimasto sbigottito, perché non si ricordava niente. Non è ancora chiara l'accoglienza che verrà riservata a Dana Saber dal pubblico del Grande Fratello Vip. Ad alcuni non è piaciuto il fatto che la modella sia ricorsa al ricordo con Antonino per farsi conoscere al grande pubblico. Dana Saber, tra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, annovera uno dei suoi migliori amici, Alberto De Pisis. Dana ha origini marocchine ma è cresciuta in Italia. Ha frequentato l'Università Trieste. Durante la paparazzata tra Dana Saber e Diane Mello era presente anche un'altra vipona. Soleile sorge, molto amica delle due ragazze. Durante la puntata del 19 dicembre del GF Vip, però, è saltato fuori che durante quell'uscita era presente anche un altro vipone, Alberto De Pisis. La settima edizione del Grande Fratello Vip sarà la più lunga di sempre. Secondo alcune indiscrezioni l'ultima puntata potrebbe andare in onda il 3 aprile 2023. Intenziale l'ultima puntata potrebbe andare in onda il 3 aprile 2023. Grazie a tutti.